Perché il mio caso è talmente semplice. Bella corsa, eh? Marendo. 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 Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio. Madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. L'ospizio dei vecchi è a Marendo, a 80 chilometri da Algeria. Ho preso l'autobus delle due. Faceva molto caldo. Ho dormito quasi tutto il percorso.